Cari amici di Ancora Italia, sovrana e popolare, buona domenica. Come sapete abbiamo realizzato un piccolo miracolo. Siamo riusciti, nonostante le fortissime spinte verso una disgregazione che serviva soltanto al sistema, a tenere unite le persone migliori che insieme a noi avevano combattuto il 25 settembre intorno alle bandiere d'Italia sovrana e popolare. Dopo mesi passati a difendersi dalle accuse strumentali, dagli attacchi etero diretti dal sistema per disarticolare, per distruggere l'unica vera forza libera nata nel corso delle elezioni, abbiamo raggiunto un grande risultato. Italia sovrana e popolare, adesso democrazia sovrana e popolare, continua nella sua opera di costruzione di un'area del dissenso che diventa area della proposta, che diventa un momento non emotivo ma stabile nel panorama politico per offrire un nuovo paradigma fondato sulla dignità dell'uomo, sul rispetto della persona, sulla lotta alle disuguaglianze contro questo globalismo infame che ci rende tutte rotelle meccaniche nelle mani dei padroni occulti. Sono davvero fiero e orgoglioso di sapere che tantissimi intellettuali hanno aderito al nostro progetto, che tanti cittadini possono dire di avere trovato una casa solida, che non vive soltanto nel momento elettorale, ma che ogni giorno, quotidianamente, grazie allo sforzo di dirigenti, militanti, singoli simpatizzanti, offre una prospettiva diversa nel mare di mediocrità e di ipocrisia che domina la scena pubblica italiana. Grazie ad ognuno di voi, grazie al vostro impegno, grazie alla vostra fiducia, noi ci sentiamo responsabili di non deludere mai le aspettative di chi ha puntato su di noi, nonostante il sistema facesse di tutto per calunniarci e oscurarci. Vedrete che saremo all'altezza delle vostre aspettative, cresceremo insieme giorno dopo giorno, grazie alla nostra coerenza, alla nostra credibilità, alla nostra forza. Perché dobbiamo fare tutto questo, cari amici? Perché viviamo tempi terribili. Proprio mentre vi sto parlando, le peggiori forze NATO si organizzano per pianificare una terribile escalation del conflitto russo-ucraino. Di fronte al dato di realtà, di fronte alla evidente avanzata russa che sta sbaragliando completamente un esercito ucraino utilizzato cinicamente come palla da cannone dalla NATO per tentare di impensierire i russi, ebbene dopo un anno di battaglie che sono costate tantissime vite umane, tantissimo dolore, distruzione, morte, che fa da padrone in quel territorio lontano dove una classe dirigente irresponsabile, guidata da un ex comico come Zelensky, continua a giocare con la vita delle persone, ebbene dopo un anno passato così non solo non si intravedono spiragli di pace, ma se è possibile è alle porte un allargamento devastante del conflitto. Abbiamo sentito a Davos i soliti multimilionari senza cuore ma con un grande portafoglio fare di tutto per cercare di zettare benzina sul fuoco. Persino un vecchio saggio, un uomo che però ha un passato molto scuro, un uomo che è stato protagonista del golpe cileno di Pinochet, che è un uomo senza scrupoli, che conosce la Realpolitik, ma che non è certamente uno sprovveduto, stiamo parlando di Henry Kissinger, ha dismesso i panni della cosiddetta Colomba per adeguarsi anche lui ad una narrazione dominante che pretende di risolvere la contrapposizione con la Russia attraverso un uso muscolare degli apparati militari della Nato. è un errore imperdonabile, è questa una prospettiva terribile che noi dobbiamo respingere, ma non basta limitarsi a parlare, dobbiamo convincere le sonnecchianti pubbliche opinioni occidentali a diventare protagoniste del destino che ognuno di noi ha sotto i propri occhi. non possiamo assistere passivamente di fronte ad uno scenario che ci rende vittime potenziali di una guerra nucleare che i popoli saranno chiamati a pagare anche soltanto per non avere parlato quando ne avevano la possibilità. Io voglio dire a tutti quegli italiani che in buona fede hanno votato per Giorgio Meloni, a capo di un governo bellicista che fa di tutto per osseguare le forze NATO, gli Stati Uniti d'America e l'Inghilterra in particolare, di aprire gli occhi. Siamo sull'orlo di un burrone, non dobbiamo più affidare la nostra vita, le nostre speranze a chi gioca alla guerra come se stesse al tavolo di un risico tra amici. Dobbiamo recuperare la nostra sovranità, non dobbiamo e non possiamo mettere a repentaglio la vita dei nostri concittadini soltanto per dimostrare perpetuo servilismo nei confronti dei vincitori della Seconda Guerra Mondiale. Paradossalmente avevamo maggiori margini di libertà, di dignità e di autonomia nel corso della Prima Repubblica, quando grazie a figure come Aldo Moro l'Italia riusciva a ritagliarsi uno spazio di manovra autonomo senza chiedere continuamente il permesso alle potenze anglosassoni. Oggi invece sembriamo una colonia muta e disperata nelle mani di padroni cinici che utilizzano gli alleati come vassalli e li scaraventano con violenza contro nemici immaginari. La Russia non è un nostro nemico. La Russia chiede semplicemente di vivere in pace all'interno dei propri confini, di non essere continuamente minacciata, accerchiata da forze Nato che avrebbero dovuto rimanere lontani dai confini di Mosca e che invece ispregio agli accordi che erano stati stipulati solo oralmente da Gorbachev e Reagan sono arrivati a pochi chilometri dalla capitale della Russia. Loro non potevano accettare oltre queste continue provocazioni, sono stati costretti a difendersi e a cercare di dare dignità e libertà alla popolazione del Donbass tenuta nel mirino dai nazisti ucraini da oramai troppi anni. Noi italiani ci stiamo distinguendo, o meglio, il governo italiano si sta coprendo di vergogna e di ridicolo nel mondo dimostrandosi giorno dopo giorno quello più aggressivo, perlomeno dal punto di vista della retorica nei confronti di Putin e della Russia. Siamo ostaggio di una stampa senza vergogna che racconta la guerra a senso unico, che ci tiene a far credere agli italiani che i russi sono tutti malvaggi, che gli ucraini sono invece angelicati. Una stampa che ribalta completamente la realtà, non racconta ma instilla soltanto odio dentro le viscere di una pubblica opinione davvero confusa. Sappiate però, cari amici, che non è interesse dell'Italia continuare a soffiare su un fuoco. Sappiate che la questione potrebbe sfuggire di mano. Sappiate che ancora oggi l'idea della guerra viene vissuta dalla pubblica opinione come un'ipotesi lontana e di scuola, ma non è così. Se nel corso dei prossimi giorni, delle prossime settimane, dei prossimi mesi, non prevarranno le persone ragionevoli, quelle che sono convinte che bisogna divenire ad una sintesi diplomatica del conflitto, se non verranno tagliate le unghie ai perfidi globalisti che pretendono di distruggere con la forza, con il ricatto, con la violenza e con la minaccia, qualsiasi autonomia rivendicata da nazioni che non vogliono chinare il capo di fronte all'avanzare di questo mondo distopico e nemico di qualsiasi tradizione, ebbene se questo non dovesse riuscire, cari amici, noi finiremo dentro un vortice di violenza estrema che è difficile pensino immaginare e raccontare. L'unica chiave di volta può essere quella di riconoscere alla Russia il diritto a vivere dentro i propri confini in piena sicurezza. Non ha nessun senso continuare a bombardare, a torturare la popolazione russofona del Donbass, costringendo così i russi a combattere una guerra che non avrebbero mai voluto combattere. In questo senso, indicative, sono state le ambizioni di Angela Merkel che ha spiegato come gli occidentali non abbiano mai in realtà voluto addivenire ad un accordo dignitoso e paritario con Mosca, ma abbiano soltanto intavolato delle trattative con il cinico e perfido risultato di chiedere tempo per armare meglio gli ucraini che oggi perdono la vita per difendersi da un nemico che non è il loro, ma semmai è nemico dei globalisti che hanno dipinto questo ordine mondiale all'indomani della caduta del muro. Chiedo quindi a tutti i cittadini italiani in buona fede, a tutte le persone che hanno aperto gli occhi, a tutti gli uomini liberi e forti che non vogliono rimanere passivi di fronte al burrone che è sotto i nostri occhi di impegnarsi adesso, politicamente, in ogni modo, in piazze, all'interno di partiti importanti e solidi, come ancora Italia sovrana e popolare, membro strutturale dell'alleanza di democrazia sovrana e popolare, di impegnarsi adesso, di fare valere la propria sovranità pro quota, di alzare la voce contro governanti burattini che rischiano di esporre la vita di tutti noi a ritorsioni micidiali soltanto per servire i loro padroni di Washington e di Londra. L'Italia non è una colonia, l'Italia è un paese libero dove vivono uomini seri che sono in grado di difendere la propria libertà, la propria dignità, orgogliosi della tradizione, della cultura che caratterizza il nostro popolo, non abbiamo intenzione di vivere oltre in ginocchio, passato quasi un secolo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il nostro compito è rimettere nel cuore di ogni italiano il rispetto, l'orgoglio di appartenere ad una grande comunità spirituale e materiale che ha offerto al mondo tesori inimmaginabili. Non piegheremo il capo di fronte alla barbarie che di fronte a noi ci uniremo e insieme porremo fine a questa tragica evenienza guidata da figure grottesche e pericolose come Joe Biden. Grazie a tutti.